Se hai filmato su stella che mai discoteca, non ti? Alla relazione, tu non hai parlato con la relazione. Lui, io, 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 bravo, 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 bravo. Ma vabbè sempre questo. Ma vabbè, nonost Holloway che si fa così. No, nonostante��i! No, nonostante, nonostante, nonostante. Nonostante, nonostante. Fasca, f Referita. Fasca, fayel! Allora, fayel! Fasca, fayel! Allora loro direi una cosa che si parlava di questa trasmissione, di tapponi e si faccio maniare i ragazzi che non accettano niente in questa situazione, io non ci voglio fare, sinceramente, 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 perché in questo momento non ci possono fare. Ma lui non mi ha mai male, dici i libri! Siamo di schermiano! Allora, alright! Una cosa che non è venire, una vita, lui e le guaranze! E' un bel giro, non è venuta! Ma per gli angolini torrano, da pure una opzione! E' un'altra cosa? No, ma per l'esterno, è vera, l'esterno, è vera che dopo il popolo, non vanno tenendo una congora a me e mi chiamo no! Per il popolo mentre, tra i gapi e la pazzo? ehi la la andrea e e io non posso scegliere però e e e ragazzi e la